Per noi sardi, nel mio tour che va in giro per tutta Italia, ho preferito lasciare questa canzone e non lasciare la storia nell'etapa sarde, perché fa parte di me ed è giusto che io rimanga tale qui e anche fuori. Questa la dedico a tutti voi, a tutta la mia famiglia, una persona in particolare, adesso vorrei vedere la faccia, tanto lei non se l'aspetta. Questa canzone la dedico a Zia Cristina, dicendoli che ti voglio tanto bene, a che mi vi dico a spiega. Grazie. 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 Grazie.